ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi voglio farvi vedere due prodotti della ben lab questa è una pinza amperometrica modello vc 600 d che ci permette di utilizzarla con una pinza perometrica sia con corrente alternata che con corrente continua anche un display quindi possiamo utilizzarlo come un normalissimo multimetro con i puntali per vedere il voltaggio eccetera e anche la funzione no contact voltage quindi adesso lo vedremo questo invece è solo tra virgolette solo una penna no contact voltage perché ci permette di utilizzarla come un cerca fase digitale il modello e vd 200 e di questo già avevo fatto vedere anche di altre marche ragazzi l'utilizzo spessissimo recentemente per creare un impianto in uno specchio con del led se non avesse avuto questo tipo di penna mi sarei disperato quindi ora vi farò vedere tutti i funzionamenti le caratteristiche ovviamente vi lascerò il link giù con il primo commento nella descrizione con il link per poterli comprare associandoli spero anche ad un codice di sconto e per quanto riguarda i prezzi metterò due schermate da questa parte perché in questo momento mi sfuggono quindi guardiamoli e vediamo come sono fatti iniziamo guardiamo per prima cosa la pinza amperometrica quindi modello bucci 600d troviamo una ghiera che ci permette di scegliere alcune funzioni la parte frontale che si apre quindi per utilizzarlo come pinza amperometrica da questa parte abbiamo il display e poi l'ingresso per i due puntali abbiamo anche dei tasti che ci permettono di scegliere alcune funzioni o attivare la luce eccetera accendiamolo si porta verso sinistra la rotella e la prima funzione è no contact voltage allora se lo avvicino ad un cavo elettrico connesso alla rete mi fa un segnale sonoro è un segnale visivo tramite questo led in questo modo mi sta dando un segnale molto debole perché mi sto allontanando con la parte che va a leggere quindi questo è il sensore ma se io lo poggio come vedete anche lentamente vado avvicinandomi e in proporzione va aumentando come velocità sia per quanto riguarda il bip che il led se lo poggio completamente avrò una velocità accelerata per entrambe le funzioni led e suono poi questo invece ci serve per la lettura degli ampere sia per quanto riguarda la corrente continua che per quanto riguarda la corrente alternata questa invece è per il voltaggio come vedete in base a quello che scegliamo qua abbiamo un'icona questa indica la corrente alternata in batti abbiamo un'onda sinusoidale se io premo funci quindi funzione passo a corrente continua perché abbiamo questo simbolo che della corrente continua poi abbiamo questa funzione utilizziamo la con la modalità continuità ma si può utilizzare per dio di resistenza insomma perdere tantissime funzioni ma utilizziamo quella della continuità che è quella più pratica e più veloce ok toccando puntali come vedete emette un segnale acustico effettivamente pure veloce nella reattività ok poi guardiamo che altra funzione questa serve per iers e quindi misurare iers nella corrente alternata questo invece la funzione di termometro e per poter sfruttare questa funzione si deve utilizzare questa sondina ora facciamo un paio di prove voglio farvi vedere con questo alimentatore da banco come risponde se utilizzo questo dispositivo come solitamente si utilizza diciamo nella maggior parte delle volte quindi per misurare il voltaggio per esempio di una batteria di un alimentatore eccetera allora impostato in questo modo mi dà la lettura del voltaggio io ho impostato sul mio alimentatore 25 volt e 3 arrotondiamo lo portiamolo a 20 volt 20 volt punto 2 diciamo del tutto tollerabile proviamo ad aumentare portiamolo a caso portiamola 44 44 1 44 e 5 ok non è proprio precisissimo però va bene come misura diciamo per l'utilizzo non professionale può andare bene perché 0 4 volte diciamo non influiscono se fosse stato più preciso per esempio come questo di qua questo è molto molto preciso come vedete molto molto più preciso qua abbiamo 43 e 8 come riportato sul display se io utilizzo questo con lo stesso tipo di impostazione quelli di 43 e 8 avrò 44 e 2 quindi c'è sempre quel mezzo volt di errore però ripeto se non avete bisogno di una precisione estrema e vi accontentate queste sono le sue prestazioni e ora sfruttando sempre l'alimentatore da banco utilizziamo la pinza amperometrica vi ricordo che va preso un cavo per volta perché se prendiamo due cavi contemporaneamente in poche parole si annullano a vicenda inseriamo in questo modo abbiamo anche gli ampere qua sul display quindi possiamo fare un confronto allora spero che rientri tutto nell'inquadratura azzeriamo avviamo l'avvitatore che alimentato dall'alimentatore da banco come vedete è praticamente lo stesso ok va bene ci siamo il risultato è lo stesso sia sul display della nostra pinza amperometrica che sul display dell'alimentatore da banco fare la lettura degli hertz invece dovremo spostare il nostro selettore sull'icona corrispondente anche se effettivamente in ambito domestico diciamo per utilizzo obbistico eccetera la lettura degli hertz non serve non penso che sia una cosa utile comunque se avete necessità facendo attenzione se non sapete quello che state facendo non fatelo bisogna inserire all'interno di un cavo come questo che ci permette di lavorare diciamo quasi in sicurezza e come vedete già abbiamo 50 hertz quindi ci indica la misura esatta degli hertz che abbiamo a casa anche se non fossero 50 esatti fossero 50 51 49 diciamo non cambia nulla ma come vedete sono 50 hertz perfetti ma quello che dobbiamo avere nella corrente di casa e ora guardiamo qualche altra funzione prima voglio farvi vedere però il sistema di illuminazione mantenendo premuto il tastino hold si accenderà sia il display che una lucina posta nella parte frontale che non è molto luminosa però diciamo aiuta in parte comunque il display invece viene illuminato per bene ci permette di leggere tutti i dati il contrasto è più favorevole se si guarda dal basso dall'alto perde un pochino allora questo tastino oltre ad accendere la luce ci permette pure di memorizzare i dati che abbiamo sul display quindi se stiamo facendo una lettura vogliamo memorizzarla in questo caso abbiamo quindi 18 volte 25 vogliamo ricordarcelo premiamo old rimane memorizzato quindi avremo questa lettura impressa sul nostro display premendolo nuovamente si cancellerà ma guardiamo anche la sondina per rilevare la temperatura allora si inserisce al posto del connettore dei puntali e da questo momento in poi impostato in questo modo abbiamo la possibilità di leggere la temperatura possiamo cambiare anche l'unità di misura sempre con il tastino quindi possiamo vedere per esempio la temperatura di qualunque superficie semplicemente toccandola ovviamente qua all'interno del mio stanzino abbiamo quasi tutto alla stessa temperatura perché la temperatura ambientale è quella ma se io lo tengo fra le mani come vedete la temperatura comincia a salire e abbiamo già raggiunto 33 gradi ora senza essere troppo precisi perché come vi ho dimostrato questa lampada come tanti altri oggetti sul riscaldano in modo differente da un punto ad un altro e sulla parte posteriore di questa lampada le temperature oscillano sempre fra 45 e 50 gradi in in base al punto in cui vado a toccare come vedete qua abbiamo 47 qua 46 man mano che mi sposto con la sondina qua 48 quindi va cambiando ma comunque corrisponde a occhi e croce alle temperature rilevate con le altre sondine che oscillavano sempre fra 45 e 50 gradi quindi tutto sommato diciamo corretto e adesso dedichiamoci al cercafase nel lab vd 200 un cercafase digitale comodissimo che come vi ho detto secondo me non dovrebbe mancare in nessuna casa e nessun laboratorio allora si accende dal tastino rosso e ci permette di utilizzarlo già da subito basta semplicemente avvicinarlo a dei cavi elettrici vi faccio vedere direttamente come si comporta allora essendo un cercafase se io lo avvicino ad un cavo solo in cui c'è la fase me lo indica direttamente toccando un cavo ovviamente dove non passa la fase non darà nessun segnale ma nel caso in cui abbiamo una matassa come questa riuscirà a indicarci da quale parte abbiamo la fase decisamente sì quindi se io lo poggio da questa parte avrò un segnale veloce perché da questa parte abbiamo la fase se lo poggio questa parte invece non avrò un segnale oppure lo avrò molto lento la stessa cosa da questa parte come vedete da questa parte avrò un segnale lento da questa parte invece un segnale più veloce ragazzi sono veramente molto reattivi e funzionano molto bene posso garantirvi che è preciso perché seguendo la curvatura la stessa risposta che ho da questa parte poi ho da quest'altra parte quindi funziona perfettamente e nel caso in cui siano così vicini se io tocco da questa parte oppure tocco da questa come vedete la risposta combacia perché la curvatura è la stessa quindi qua 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 va lento qua va lento qua va veloce e qua va veloce quindi funziona perfettamente anche una luce integrata per poter vedere in zone poco illuminate per esempio il caso di blackout abbiamo anche un laser può tornare utile per diverse circostanze io non l'ho mai utilizzato il tastino al centro invece serve per aumentare la sensibilità del dispositivo quindi in questo modo mentre spento come vedete io devo quasi toccare per poter avere una risposta quando poi lo toccherò avrò un segnale veloce da questa parte è più lento da quest'altra parte ma se io accendo quindi aumento la sensibilità avrò innanzitutto il tastino illuminato e come vedete la risposta arriva molto prima che io tocchi il cavo lo stesso da questa parte quindi serve semplicemente ad aumentare la sensibilità nel caso in cui sia necessario avere una sensibilità maggiore per esempio per vedere dietro le prese di corrente oppure capi che abbiano una guaina un pochettino più spessa eccetera e quindi ragazzi cosa dire di questi due dispositivi allora questo a quel mezzo punto per quanto riguarda la lettura della tensione che non è perfetto non è preciso però in ambito domestico se stiamo misurando una tensione se fosse un volt due volte allora ovviamente in quel caso la cosa cambierebbe ma quattro decimi sinceramente non vanno ad influire più di tanto per un utilizzo normale prevedere se una batteria è carica insomma questo tipo di utilizzo si può perfettamente tollerare perché tantissimi dispositivi della stessa fascia di prezzo della stessa tipologia hanno lo stesso difetto solo qualcuno come quello che ho fatto vedere poco fa è molto molto preciso questo invece come vi ho dimostrato è comodo come cerca fase e risolve tantissimi problemi vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione se vi sono piaciuti vi hanno dato una buona impressione pensate che possono servirvi eventualmente cliccate sul link del primo commento nella descrizione sperando di associarli al codice di sconto e se vi piacciono compratevi adesso vi ringrazio vi saluto e vi do appuntamento a tutti i miei prossimi video ciao da riccardo e a presto